Sono stato a Bergamo, un'assemblea di industriali, dove ci si confronta con la Germania e addirittura si dicono delle cose che in altri contesti sembrerebbero azzardate. Si dice che si vuole mettere la persona al centro dell'innovazione. Quindi ci sono pezzi dell'Italia che chiedono anche delle risposte politiche, sia in avanti come gli imprenditori, sia nelle aree del disagio. Onestamente vedo un dibattito politico, in parte anche nei giornali, molto anche in televisione, che è come dire, ma Berlusconi andrà d'accordo con Salvini e così via. Per carità, sono problemi reali.